Oggi per Cinema e Bendolarismo vi voglio parlare di un film che non è ancora stato distribuito in Italia. Si tratta di The Love Witch, scritto, prodotto e diretto da Anna Biller nel 2016 e mi sembrava un titolo originale per festeggiare San Valentino. Il The Love Witch non è un horror, ma è un dramma femminista con venature thriller ed erotiche. Femminista perché questo è nelle intenzioni dichiaratissime di Anna Biller, che ha spiegato che si tratta di un film anche in parte autobiografico. L'obiettivo era quello di realizzare un film che parlasse delle fantasie femminili proprio dal punto di vista di una donna. Fin alla scena dei titoli di testa, che è meravigliosa e ricorda le più classiche eroine di Hitchcock alla guida, apprendiamo che Elen si sta trasferendo da San Francisco verso una piccola cittadina della California del Nord in seguito alla morte del marito Jerry. Sempre Elen ci racconta che secondo gli studi gli uomini sono molto fragili, ma ce lo dice quasi con sarcasmo e disprezzo. Sempre Elen spiega che dopo la morte del marito lei si è sentita come morta, ma poi è rinata grazie al fatto che è diventata una strega. Spiega di aver studiato parapsicologia e che gli uomini sono come dei bambini, che i loro desideri e le loro necessità sono davvero semplici e a loro basta trovare una donna che li ama, che si prende cura di loro e il sesso è un modo per arrivare al loro cuore. Elen spiega queste cose a Trish, la donna che l'ha accompagnata alla casa di Barbara, un'amica comune che le ha appunto affittato la casa. Trish però è una donna moderna, completamente diversa da Elen. Infatti quando Elen le spiega tutte queste cose a Trish le dice ma ti sei bevuta il cervello a forza di patriarcato? Guarda me e mio marito Richard, siamo così felici, io non ho bisogno di compiacerlo, lui mi ama per come sono. Elen invece pur essendo davvero bellissima preferisce legare gli uomini a sé con rituali appunto di legamento e pozioni d'amore. Salva poi accorgersi che di quegli uomini non le importa un granché, infatti questi letteralmente impazziscono. Poco dopo infatti con profondo disprezzo che Elen commenta le pene d'amore del primo uomo che cade ai suoi piedi nella nuova località, Wayne. Infatti Elen pensa povero piccolo e pensare che quando stavo male io non c'era nessuno che mi potesse aiutare. In seguito Elen seduce e abbandona anche il marito di Trish, Richard. Sia Wayne sia Richard impazziscono letteralmente per lei e muoiono, muoiono d'amore. Le scene di seduzione sono al massimo del glamour di questo film. Samantha Robinson che interpreta Elen indossa delle extension tattiche che le coprono il seno. Quindi in realtà le scene di nudo non sono mai gratuite. Le uniche scene di nudo integrale sono quelle che riguardano i rituali collettivi. Elen quindi seduce Wayne, seduce Richard e in seguito però viene rintracciata dalla polizia e il detective Griff che indaga proprio su di lei per la morte di Wayne cade però ammaliato dalla sua bellezza. Elen riconosce in Griff l'uomo del fato, quindi l'uomo che le carte le hanno presentato come uomo del destino. Sia le carte, sia i sogni, sia anche i dipinti che Elen crea. Infatti oltre ad essere una strega che vive grazie alla vendita dei suoi intrugli e dei suoi oggetti stregoneschi, Elen è anche un artista. In seguito però le cose vanno degenerando. Infatti nella località accadono degli omicidi nei quali le vittime recano inciso nel petto un pentacolo e quindi i sospetti convergono verso Elen. Griff la difende da un tentativo di stupro e linciaggio di gruppo ma le dice anche quello che tu chiami amore è un disturbo della personalità. Al che Elen gli spiega che per tutta la vita lei è stata buttata nell'immondizia tranne quando gli uomini volevano il suo corpo e questo perché l'uomo non ama mai la donna per ciò che è realmente. La scena clou di questo film è sicuramente quella rinascimentale che rappresenta il sogno di Elen ma è un mondo che non si può ottenere nella realtà. È fondamentale anche la scena nella quale Trish dopo la morte del marito si reca a casa di Elen, si veste e si trucca come lei. In particolare utilizza il suo stesso rossetto, quel rossetto che Elen aveva paragonato a un vero e proprio strumento magico. Trish simboleggia quindi il dramma interiore della donna razionale, della donna moderna, della donna forte, della donna che non ha bisogno di compiacere il marito, che non bada all'esteriorità e all'asservimento all'uomo ma che allo stesso tempo è molto affascinata da tutto quel rituale di seduzione femminile e del resto Trish fin dall'inizio dimostra un'attrazione anche fisica per la stessa Elen, tanto che le dice ma sei davvero bellissima però io sono sposata. E poi c'è la contraddizione dell'anello. C'è una scena iniziale nella quale Trish ammette di essere scesa a compromessi accettando il costoso anello di fidanzamento da parte dell'allora fidanzato e poi marito Richard. Anche Elen più tardi mostrerà un analogo anello a Trish. Il discorso relativo a questi anelli insieme al concetto espresso da Barbara l'amica che ha condotto Elen verso il mondo della stregoneria relativo al matrimonio. Barbara spiega che attraverso il matrimonio gli uomini hanno sempre voluto far diventare le donne le loro schiave e le loro bambole sessuali. Ecco questi discorsi mi hanno riportato ai celebri versi di Sylvia Plath sul matrimonio e in particolare sul simbolo della fede nuziale. Un anello d'oro con dentro il sole bugie, bugie e dolore. Elen inoltre è una donna abusata e questo lo scopriamo fin dall'inizio quando proprio nei titoli di testa durante il viaggio verso questa nuova località dove intraprendere una nuova vita. Ci spiega che nel mondo le persone vengono abusate ogni giorno anche peggio di quanto è capitato a me. Eppure spiega They do fine. Più avanti nel corso del film scopriamo che Elen ha avuto un rapporto terribile con il padre e che lo stesso mentore Gaan, il compagno di Barbara, quindi la coppia che l'ha accompagnata verso il cammino stregonesco con la scusa del potere sessuale, della liberazione sessuale che deve servire alla donna per essere di nuovo adorata come dea, beh attraverso tutto questo genere di discorsi ha abusato sessualmente di lei. Veniamo adesso alla forma di questo film perché questa pellicola fa rivivere la magia del Technicolor. Quindi i colori e le luci esprimono tutta la potenza delle emozioni di Elen e del suo glamour. All'inizio Elen arriva nella nuova cittadina ed è vestita completamente in rosso, perfino la macchina che guida è rossa, il suo smalto, la borsa, le valigie, il vestito, tutto rosso. Nel corso del film vestirà anche altri colori, dal total black a una camicia bianca molto semplice, a un abito completamente colorato e tutte queste mise simboleggiano le sfumature della personalità di Elen. In particolare ovviamente il rosso richiama il sangue, sangue che non è tanto quello delle vittime perché questo non è un horror, di sangue se ne vede davvero poco e più il sangue simbolico, il sangue della donna, il sangue mestruale. Elen infatti spiega in una scena che il sanguinamento della donna è una cosa naturale ed è una cosa molto bella, eppure la maggior parte degli uomini non ha neanche mai visto un tampone usato. Anna Biller scrive, dirige, produce, compone le musiche rinascimentali, crea alcune delle opere d'arte che si vedono nel film e inoltre cura direttamente anche la scelta di ogni singolo abito in mercatini e negozi. La regista insieme al direttore della fotografia M. David Mullen sembrano essersi ispirati davvero ai più grandi cineasti, non solo a Hitchcock come dichiarato dallo stesso M. David Mullen negli extra del DVD e in particolare a Marni, ma io ci vedo anche ad esempio l'ispirazione dettata dal capolavoro di Mario Bava, Sei donne per l'assassino, soprattutto per l'utilizzo dei colori. In più però con le atmosfere davvero molto languide, ricercate, dei film di Jess Franco e del resto Samantha Robinson non sfigura accanto a Soledad Miranda. Per quanto riguarda le ispirazioni dichiarate, Anna Biller afferma di essersi appunto ispirata fortemente a Femmina Folle, mentre la scena rinascimentale richiama esplicitamente la favolosa storia di pelle d'asino di Jacques Demy. Inoltre probabilmente almeno dal titolo il film potrebbe anche omaggiare una pellicola di Damiano Damiani del 66, Strega in amore, tratto da un libro di Carlos Fuentes, anche se la trama è completamente diversa. Una particolare citazione per The Love Witch va alla colonna sonora che oltre alla parte rinascimentale contiene brani di Ennio Morricone, tratti dal Diavolo nel cervello, Verushka, una lucertura con la pelle di donna, e di Piero Piccioni, le mani sulla città e chi lavora per tutto. Quindi questo è un film molto più complesso di quello che sembra, è un film per me unico sia per forma sia per contenuto, da vedere assolutamente se vi piace il cinema del passato, da vedere per l'eccezionale prova di Samantha Robinson, da vedere se volete approfondire il cinema femminista, da vedere per le grandi contraddizioni del rapporto uomo-donna, donna-donna e donna all'interno di se stessa. Quindi davvero è un film unico su più livelli, un film che ha guadagnato pochissimo al botteghino, forse proprio per la complessità e per il fatto che è difficilmente catalogabile. E ancora ho letto qualche recensione, forse un po' troppo lungo, beh sono due ore scarse, si può anche affrontare, secondo me non è un film eccessivamente lungo. Detto questo basta, io ve lo straconsiglio perché ripeto è un film più unico che raro e basta, grazie dell'attenzione.